Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'episodio che si è verificato questa mattina nei pressi del Tribunale di Gela, la rinvenuta alla carcassa di un cane e la polizia che indaga sull'episodio frena gli allarmismi ma vuole vederci chiaro, sono state requisite le immagini del sistema di videosorveglianza del presidio giudiziario Indagini sono state avviate dalla polizia del commissariato di Gela per chiedere in ogni minimo particolare l'episodio che si è verificato alle prime luci dell'alba di oggi Potrebbe trattarsi di una casualità ma il luogo in cui è avvenuto impone giustamente la massima attenzione Questa mattina intorno alle 5.30 sulla strada che costeggia il Tribunale in Contrada Giardinelli è stata rinvenuta la carcassa di un cane Non si esclude alcuna pista, gli investigatori vogliono vederci chiaro ed è per questo motivo che sono state requisite le immagini del sistema di videosorveglianza Nessun allarmismo ma come sottolinevamo la giusta considerazione del fatto senza tralasciare nulla In relazione all'episodio di stanotte concernente l'abbandono della carcassa di un cane nei pressi della zona del Tribunale abbiamo tutto l'interesse a rassicurare l'opinione pubblica circa la necessità che non si creino allarmismi gratuiti quantomeno fino a quando non verranno espletate tutte le indagini del caso che stiamo svolgendo attraverso la visione di tutte le immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza di zone afferenti anche alla procura stessa Si tratta di una carcassa già in stato di evidente decomposizione abbandonata nel corso della notte lungo la via Livatino Non ne conosciamo la ragione potrebbe trattarsi di qualunque dinamica dall'atto vandalico al semplice atteggiamento folle di qualche malintenzionato che non si sa per quale ragione specifica quindi non riteniamo che possa questo episodio determinare allarme o preoccupazione da parte della cittadinanza gelese eventuali sviluppi saranno comunque trasmessi e sarete debitamente informati riguardo a questo episodio Colpi d'arma da fuoco a miscemi contro un'abitazione a tutta l'area di un avvertimento l'episodio che si è verificato la scorsa notte in via Largo Spasimo dove ignoti avrebbero esploso dei colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di un imprenditore agricolo titolare di un'azienda a conduzione familiare diversi colpi indirizzati verso il garage e la porta d'ingresso dello stabile sul posto gli agenti del commissariato di polizia hanno sequestrato diversi bossoli di pistola C'è il rischio concreto che la chiesa di piazza Sant'Agostino a Gela perda i frati agostiniani e dunque di conseguenza potrebbero perdersi anche le numerose tradizioni che interessano il presidio l'allarme è stato lanciato da Nuccio Mulè, cultore di patria e memoria e presidente della locale associazione dell'archio club Gli agostiniani sono stati già trasferiti per mancanza di vocazione, per mancanza di frati di conseguenza loro stanno chiudendo tutta una serie di conventi agostiniani in particolare, se non vado errato, quello di Gela e quello di Benevento se non vado errato, ovviamente i fedeli che sono molto attaccati ma non da tempo addirittura dagli albori di questa fratellanza costiniana non si rassegneranno a questa situazione, molto probabilmente andranno ad occupare la chiesa e il convento una cosa eccezionale e eclatante che solo così potrebbe convincere il padre generale che si trova a Roma a desistere da questo trasferimento Mulè ha già scritto a padre Luciano Michieli, priore della provincia agostiniana d'Italia e a padre Raimondo Franca Lanza del convento San Marco dei Patri Agostiniani Il priore, padre Francesco qui, è andato a Malta per capire se sono disponibili alcuni frati di Malta a essere trasferiti a Gela in modo tale da non perdere questo presidio religioso agostiniano Voi avvierete anche una raccolta di firme? Ma arrivato a questo punto la raccolta di firme non ha quel valore che potrebbe avere in un contesto diverso A mio modo di vedere l'idea dei fedeli di occupare la chiesa e il convento un'occupazione che non sarebbe solamente simbolica potrebbe far desistere il padre generale agostiniano di lasciare questo presidio agostiniano a Gela Nulla vieta che le feste classiche che sono legate a questa chiesa quella di San Giuseppe in particolare e quella di Santa Rita si svolgono in maniera differente non con quella enfasi e con quel seguito di fedeli che prima si poteva avere Sarà Luigi Bobba, vice ministro per le politiche sociali a presentare a Gela mercoledì 29 giugno alle 11 la nuova legge di riforma del terzo settore che riordina il vasto mondo del no profit e dell'associazionismo un'ex scuola abbandonata alla periferia di Gela trasformata dai cittadini in una scuola di educazione alla convivenza democratica conosciuta in tutta Italia come la prima casa del volontariato ospiterà il seminario nazionale che è rivolto ai quadri del volontariato e del terzo settore ed è aperto a tutta la cittadinanza sarà presentata come dicevamo la nuova legge di riforma a cui anche le associazioni di Gela tramite il Movi hanno partecipato alla stesura e si raccoglieranno i contributi di pensiero per i successivi decreti attuativi i lavori saranno aperti da Gero Buongiorno, presidente della casa del volontariato Salvatore Buccheri, responsabile del CESVOP e Pino Valenti, portavoce del forum l'introduzione sarà affidata ad Enzo Madonia esperto di politiche sociali e risorse umane del comitato regionale del Movi Sicilia movimento di volontariato italiano il dibattito sarà moderato da Francesco Pira sociologo e docente universitario presso l'università di Messina e proseguono gli eventi culturali al Club Vera di Gela domani alle 21 è previsto un incontro su ludopatie e dipendenze e saranno presenti lo psichiatra Francesco Lauria il sociologo Francesco Pira e la psicologa Rosaria Damaro modererà i lavori e vita l'orefice ad aprire il dibattito sarà il vice presidente del Club Sergio Antonuccio e adesso occupiamoci dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gela fede, commozione, emozione c'è tutto per la festa della Madonna delle Grazie che ricorre il 2 luglio e che poi sostanzialmente è anche la festa più partecipata a Gela sì possiamo dire che è una festa caratterizzata da una tradizione popolare è una fede popolare poi è una fede liturgica e una fede anche possiamo dire anche cittadina perché l'intera città è coinvolta in questa in questa grande venerazione alla Madre del Signore con il titolo di Maria Sant'Eso delle Grazie un programma ricco di iniziativa quest'anno sì, quest'anno abbiamo arricchito un po' il programma perché la settina non può essere una settimana solo di celebrazione eucaristica e sfogliamento abbiamo messo all'interno tre grandi avvenimenti uno abbiamo fatto ieri sera che era una grande veglia mariana e questo piazzale era molto pieno domani faremo una grande celebrazione penitenziale ci saranno tanti sacerdoti della città e il 30 su quello palcoscenico vivremo un momento di adorazione eucaristica tutto in ricordo e memoria di Frarocco Quattrocchi? tutto in ricordo di Rocco, in ricordo di questa festa che ogni anno che passa noi riusciamo a dare un tocco sempre più concreto sempre più di miglioramento riguardo ai festeggiamenti della Madonna delle Grazie cosa chiedono i fedeli, cosa chiedono i giolesi alla Madonna delle Grazie? ora in un momento così particolarmente buio sotto l'aspetto occupazionale credo che i giolesi chiedano innanzitutto l'intervento della Madonna per ciò che vive la città la città vive un momento, possiamo dire un po' di caos la città, i fedeli che vengono pregano per il lavoro, pregano per la salute pregano per il cambiamento nella nostra città non dico nostra perché sono in mezzo a voi già da tre anni e vedo le problematiche che è la città grande povertà, grande bisogno, quanta gente bussa alle nostre porte credo che chi entra in questo santuario chiede per intercessione di Maria proprio questo un miglioramento nella propria vita, un benessere che da molto tempo è venuto a mancare nella città di Gella il giorno 2 è sabato 2 luglio e come si svilupperà in quell'occasione la giornata? il giorno 2 noi iniziamo presto, una prima messa alle 6 del mattino, 7, 8, 9, 10, 11 e mezzogiorno la messa, l'ultima messa, sempre con l'esfoliamento dei bambini alla fine delle messe e alle ore 16 noi partiamo con la processione che poi con rientro tarda notte con i fuochi d'artificio? con i fuochi d'artificio, sì e in pagamento agli sportelli della banca Unicredit di Gela il contributo per il canone di locazione relativo al 2015 lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia a Bela le somme integrative attinte dal fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono rapportate all'importo del contratto di affitto regolarmente registrato e alla sua incidenza rispetto al reddito del nucleo familiare Disparità di trattamento tra personale medico ed infermieristica a tempo determinato nel rinnovo dei contratti di lavoro rispetto alle altre ASP siciliane questa la denuncia del Nursind mentre al personale medico, così come si legge in una nota inviata dal sindacato i contratti sono stati rinnovati sino al 31 dicembre agli infermieri il rinnovo è stato prorogato sino a fine ottobre la preoccupazione del Nursind è quella che se non dovesse esserci alcuna proroga dopo ottobre molti di loro non potrebbero più partecipare all'eventuale stabilizzazione è chiaro che il nostro rappresentante sindacale provinciale Osvaldo Barba ha avuto una presa di posizione su questo punto dove praticamente l'ASP di Caltanissetta ha rinnovato in maniera informale e informale nel senso che ha comunicato ai dipendenti infermieri in questo caso che fino a ottobre è rinnovato ma tacitamente si rinnoverà fino a dicembre una differenza effettivamente l'abbiamo notata in quanto i dirigenti medici hanno il rinnovo contrattuale gliel'hanno prolungato fino al 31-12-2016 in tempi così bui dove la sanità è sempre nel mirino di tutto e di tutti ci sembra doveroso sottolineare che il Nursind è sempre vicino alla categoria di infermieri e che tutela anche i pazienti perché nel momento in cui vengono a mancare quelle che sono le unità importanti nel reparto quindi gli infermieri è chiaro che a catena, a cascata, viene a diminuire anche l'offerta di salute In ballo il futuro economico di molte famiglie e dell'assistenza sanitaria nella provincia Anissena come sottolineato dal sindacato degli infermieri che si rende disponibile al dialogo e alla collaborazione con l'ASP L'ASP di Caltanissetta ormai già da anni soffre della carenza di infermieri L'ASP ha ormai da tempo considerato gli infermieri come numeri e questo è una cosa che non deve accadere tant'è vero che vediamo come da giornali hanno intenzione di mobilitare infermieri dagli ospedali minori verso santeria Questo non fa altro che sguarnire gli ospedali piccoli non garantendo assistenza agli utenti e quindi una coperta troppo corta che da un lato si tira e dall'altro no Quindi la nostra proposta è quella sempre di assumere personale perché il personale manca sempre e a proposito di questo argomento noi giorno 30 manifesteremo a Palermo proprio per le assunzioni e la stabilizzazione dei tempi determinati Ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10 il nostro ospite è Don Giovanni Tandurella parroco della Chiesa Maria Santissima di Betlemme Le repliche, lo ricordiamo, sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 Ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità Seconda parte del telegiornale Sono state pubblicate al Comune di Gela le gradatorie con i nomi dei soggetti ammessi e degli esclusi all'ottenimento del bonus socio-sanitario e dell'assegno civico L'elenco è consultabile all'albo pretorio sul sito internet del Comune di Gela o negli uffici del segretariato sociale E adesso apriamo la pagina dello sport ed occupiamoci delle ultime notizie che riguardano il Gela Calcio Si lavora sotto traccia per adesso al fine di costruire una squadra che possa ben figurare nel prossimo campionato di Serie D Il Gela sta sondando il mercato per poi, quando sarà il momento, piazzare i colpi giusti in entrata Si è tanto parlato di un ritorno in bianca-azzurro dell'attaccante Rodrigo Franzella Il direttore sportivo del club, presieduto da Angelo Tuccio, Giovanni Martello nega qualsiasi trattativa Non credo che Franzella faccia parte del progetto Gela Calcio Assolutamente, smendisco categoricamente Noi abbiamo altre idee, altre prospettive, altri profili di giocatori assolutamente validi che faranno parte del Gela Calcio Però Franzella, devo essere chiaro ed esplicito, non rientra nei progetti del Gela Calcio In questi giorni si è anche parlato del bomber Maurizio Nassi Lascia o raddoppia con la casacca bianca-azzurra? Nassi è d'obbligo che faccia parte del progetto Ci stiamo incontrando in questi giorni Maurizio è un professionista serissimo è tutta intenzione nostra riconfermarlo è una parte integrante del progetto Gela Calcio Ci stiamo incontrando, stiamo facendo le nostre proposte Però è chiaro che i matrimoni si fanno in due Si fanno in due Quindi sicuramente però sono certo che c'è la volontà La parte di Gela Calcio di continuare insieme Ma della vecchia guardia, direttore Di coloro i quali hanno vinto il campionato d'eccellenza Quanti ne rimarranno? Bonafini, Campanaro, Nassi, Vincica, Alma Sono tutti ragazzi che noi riteniamo utilissimi Alla causa del Gela Calcio Ripeto nuovamente, ci stiamo parlando Stiamo illustrando i nostri programmi Le nostre proposte Abbiamo tutta la voglia che questi ragazzi rimangano con noi Però mi dispiace ripetermi I matrimoni bisogna farli in due E quindi anche da parte loro ci deve essere la voglia Di continuare a vestire la maglia bianca-azzurra Ci sarà anche la delegazione di Gela del piccolo coro Lollipop Alla serata conclusiva del concorso nazionale La Luna al Guinzaio Che si darà giovedì 30 giugno prossimo A Genova in piazza dei Ferrari La manifestazione è dedicata alle canzoni scritte dai bambini per i bambini Il concorso prevede per la classe vincitrice un premio di 500 euro Da investire in materiale didattico ed una statua in ceramica Rappresentante il bambino della Luna al Guinzaio Realizzata dalla ceramista genovese Claudia Ferrando Per il secondo e terzo posto Premio piccolo coro Lollipop e premio radio fra le note È prevista una targa in ceramica A Genova saranno presenti sei coristi gelesi Assieme alla direttrice e cantautrice Antonella Serà I brani verranno valutati da una giuria composta da professionisti del settore Musicisti, cantanti e critici Ci sarà anche una giuria junior composta da quattro piccoli giurati Di età compresa tra i 9 e i 12 anni Dalla manifestazione poi verrà tratto il compadisc La Luna al Guinzaio, terza edizione Che verrà venduto in abbinamento a un libro Che avrà al centro i testi del concorso Parte della ricavata o della vendita Sarà poi devoluto in beneficenza Opere d'arte sui muri L'essenza di un'amicizia fraterna Che si prende a pugni Acrilici spray come pennelli Per trasformare un semplice muro in un'immagine tridimensionale E tutto questo nella galleria d'arte a cielo aperto Nella Street Factory di Eclettica di via Rochester Inaugurata pochi giorni fa Due nisseni in giro per il mondo Che con la loro vernice spray Hanno trasformato la grigia parete dell'ex pista di pattinaggio In una vera e propria opera d'arte Feast pump Il pugno contro pugno Un colpo per creare un legame Che però è possibile osservare Soltanto se ci si trova al centro del campo della Street Factory Ancora un altro modo per sentirsi parte di una comunità Di un gruppo Ringrazio i ragazzi di Eclettica Che ci hanno invitato a partecipare a questa manifestazione A questo evento Stanno facendo veramente qualcosa di importante Per Caltinistetta E per il centro della Sicilia Per la Sicilia in generale Ieri dipingendo qui abbiamo visto Come dire Una magia Come se ci fosse una magia Avevamo già dipinto Circa 12 anni fa in questo posto Eravamo piccolini E già la pista era abbandonata Il posto era veramente in uno stato di degrado Ritornare qua e vedere tutte quelle persone Quei ragazzi che si divertivano Che giocavano È stata una cosa fantastica Quindi Grandi ragazzi E Bravissimi Ci saranno altre opere Già ci sono stati degli artisti che hanno dipinto Già ha dipinto Marco Guè Che è un ragazzo di Catania Un grande artista siciliano Uno street artist siciliano E assieme a lui Ha dipinto anche Luca Mangiatore di patate Lui Mangiatore di patate Ha dipinto All'ingresso Diciamo Della Della struttura Domenica inizierà Angelo Crazy One Che è un carissimo amico nostro Di Delia Anche lui Uno street artist in gamba Bravissimo Fa opere con l'utilizzo dello stencil E poi ci saremo Cioè noi che completeremo l'opera Che si trova qua dietro L'opera rappresenta un po' Diciamo quello che è il tipico saluto da campetto Ovvero questi due pugni che Si salutano Ci facciamola Ok L'opera rappresenta un po' Il tipico saluto da campetto Saluto tra ragazzi Quindi il pugno Abbiamo voluto rappresentare Appunto Quello che è l'incontro Tra diverse persone Nelle braccia Verranno rappresentati dai graffiti Con i nostri nomi Come fossero dei tatuaggi Sulle nostre braccia Appuntamento con la rassegna Teatro sotto le stelle All'antidoto di Gela Venerdì 1 luglio Alle 21.30 È prevista la rappresentazione Turbolense In galleria Della compagnia teatrale Cesare Cannata La rassegna Si concluderà a settembre L'ingresso Ricordiamo È di 5 euro a coppia Prevista anche l'esibizione Nel calendario Di Giobbe Covatta Abbiamo concluso Anche per oggi Grazie per averci seguito Appuntamento Alle prossime edizioni Grazie per averci seguito